Buongiorno a tutti sono la dottoressa Manciuria e mi occupo di radiodiagnostica. Mi sono laureata alla Federico II nel 2004 e specializzata sempre alla Federico II nel 2009 e dal 2009 ho il piacere di lavorare alla casa di cura Tortorella dove poi nel 2013 sono diventata responsabile del reparto di radiodiagnostica. Sono il dottore Catello Lambiase, sono specialista in radiologia dal 2002 e da allora mi occupo nella mia branca della diagnostica senologica, dell'ecografia, degli esami TC, cardiovascolari e non per ultimo anche della diagnostica con risonanza magnetica nella traumatologia sportiva. A che cosa serve la risonanza magnetica della colonna? Vi parlo dei traumi prevalentemente sportivi ma ovviamente possono anche essere non sportivi. La risonanza magnetica della colonna vertebrale valuta i rapporti anatomici tra i legamenti, le vertebre, il midollo spinale ed i dischi intersomatici per cui l'esame permette di valutare se ci sono dei traumi diretti o traumi indiretti. La diagnostica con risonanza magnetica svolge un ruolo cruciale nella traumatologia sportiva, nello studio delle articolazioni dell'arto superiore, ovvero la spalla, il gomito e il polso e dell'arto inferiore, l'anca, il ginocchio e le caviglie. Circa lo studio di queste articolazioni la diagnostica con RM consente la diagnosi precoce di lesioni tendine, meniscali e legamentose che possono essere spesso svelate solo con la risonanza magnetica. Inoltre l'edema osseo che svolge oggi un fondamentale ruolo nella diagnostica traumatologica può essere svelato solo dalla risonanza magnetica. Entro quali tempi la risonanza della colonna dovrà essere eseguita dopo il trauma? In effetti non c'è un tempo determinato affinché possa essere consigliata l'esecuzione dell'esame diagnostico, piuttosto dipende anche dalla sintomatologia riferita dal paziente. Ovviamente prima si procede con la risonanza della colonna e prima si identifica la causa per cui si ha un determinato stato doloroso al fine poi di pianificare un programma terapeutico successivo. La tempistica dell'esecuzione dell'esame di risonanza magnetica nella diagnostica traumatologica dobbiamo distinguere le lesioni muscolari da quelle articolari. Nelle lesioni muscolari sappiamo che la risonanza magnetica anticipa la diagnosi ecografica ma spesso non deve essere eseguita prima delle 12-24 ore dall'evento traumatico. Per quanto attiene invece al studio delle articolazioni non c'è un tempo entro il quale dobbiamo eseguirlo perché spesso il versamento articolare si accompagna al trauma aiuta la diagnostica per immagini nello svelare le lesioni tendine legamentose e meniscali. Dopo la risonanza magnetica della colonna che cosa succede? In effetti il referto viene poi condiviso con un team multidisciplinare che possa essere costituito da un fisiatra, un ortopedico, un fisioterapista e un medico sportivo. È un team proprio per questo si avvale di tante figure diverse tra di loro ma che sono interdipendenti. Questo affinché si miri alla giusta terapia che possa essere un intervento chirurgico personalizzato oppure una terapia semplicemente medica quindi tra virgolette casalinga ma sempre personalizzata per occupare il minor tempo di convalescenza per lo sportivo. La diagnosi delle lesioni muscolari oggi può essere eseguita con esame ecografico e con esame di risonanza magnetica. L'importanza dei tempi dell'esecuzione di questi esami è fondamentale. Di solito sappiamo che l'ecografia svela le lesioni con una latenza che può raggiungere le 12-24 ore mentre invece la risonanza magnetica grazie alla sua capacità di vedere il sangue e in ottimo modo le fibre muscolari spesso anticipa le lesioni muscolari quindi può avere un ruolo cruciale nella diagnostica delle lesioni delle strutture muscolari.